a inel con questo articolo si è giudicato un voto finale di 8.6 su 10 è il più desiderato i punti di forza sono comodo versatilità ottimo rapporto qualità prezzo robustezza leggero durata della batteria in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto la valutazione di questo prodotto di makita è di 9.2 voti su 10 è al momento il più votato con 1630 valutazioni per questa categoria le sue peculiarità sono comodo versatilità robustezza ottimo rapporto qualità prezzo in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato il voto complessivo assegnato a questo articolo di bosch professional è di 9.4 su 10 lo valutiamo come la scelta migliore i punti di forza sono versatilità ottimo rapporto qualità prezzo robustezza ergonomico se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video il voto finale aggiudicato da questo articolo di aicaica better tools for better life è di 8.8 voti su 10 risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo i suoi punti di forza sono robustezza comodo ottimo rapporto qualità prezzo ergonomico se vuoi avere maggiori informazioni e vuoi conoscere il prezzo di questo articolo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto complessivo di questo articolo di dual t è di 9.6 su 10 risulta essere il più esclusivo di questa selezione le sue funzionalità sono comodo robustezza ottimo rapporto qualità prezzo leggero se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video bosch professional ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 8.8 su un totale di 10 punti risulta al momento essere il più scontato di questa selezione le caratteristiche principali sono ottimo rapporto qualità prezzo robustezza leggero se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video e e e e e e Grazie a tutti.